Musica 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 Insomma, noi ti abbiamo fatto un pensiero Dissello qua Si, esatto Cos'era il tuo nome Ma proprio Non era voluto, cioè era voluto questo incontro Certo Pensavo fossi un uomo No, no, no Un uomo del destino Ti volevo chiedere assicomè noi Noi cerchiamo di promuoverci appunto Per raccontare queste storie Se la indosso in Italia No, se ti andavo a dimostrare la 1 maggio ci farebbe un grande piacere E vediamo, io in realtà 1 maggio sono tutto vestito di nero per questi momenti di costume Però se la particolarità Ok, ci riesci. Grazie, ciao.